Tra le 60 iniziative in programma in tutta Italia organizzate nel pieno rispetto delle normative anti-covid, anche a termoli i volontari di Lega Ambiente sono scesi in spiaggia vicino al circolo della vela a Rio Vivo. Un weekend nel rispetto dell'ambiente, la mattinata di pulizia, visto la partecipazione dei volontari della Croce Rossa italiana con le delegazioni di Campobasso e Isernia e dell'associazione Madre che con i suoi biologi si è impegnata a ripulire il fondale nei pressi della spiaggia. La situazione che abbiamo trovato a termoli, ha detto Andrea De Marco, direttore di Lega Ambiente Molise, non si discosta da quanto emerso dal monitoraggio presentato con la nostra indagine Beach Letter. Abbiamo notato una preoccupante presenza di plastiche e microplastiche sul tratto di costa che abbiamo ripulito, materiale che se non correttamente smaltito provoca danni irreparabili all'intero ecosistema. Non si è fermato neppure l'impegno dei volontari di Ambiente Basso Molise che insieme ai colleghi di AIS a Campomarino hanno raccolto un tir di rifiuti, in modo particolare è stata ripulita la pineta del Lido.